Inbooki è una nuova forma d'arte. Ti consente di leggere ebook che si adattano al tuo mondo e che ti coinvolgono nella narrazione. Noi li chiamiamo Inbook. Immagina la stessa storia, letta da una ragazza in un caldo pomeriggio e da un ragazzo in una nottata piovosa. Grazie alla fantasia dell'autore, la narrazione si adatta in base alle condizioni ambientali in cui il lettore sta leggendo. Il racconto può variare anche a seconda delle caratteristiche del lettore, consentendo ad esempio di leggere la stessa storia da più punti di vista. Un Inbook può richiedere scelte attive che influenzano il prosieguo della narrazione. Una stessa storia può avere quindi sviluppi inaspettati che dipendono dalle scelte del lettore. Leggendo un Inbook vieni immerso nel racconto e ne diventi tu stesso il protagonista. Immagina come potrebbe essere vivere da dentro un romanzo rosa o una storia fantasy, oppure impersonare l'ispettore in un romanzo giallo. Inbooki è disponibile gratuitamente per iPhone, iPad e dispositivi Android. Grazie. Grazie.